Oggi parliamo del canale dell'occultismo, tutto quello che non è tutto conosciuto o non ben conosciuto per certi versi quindi c'è il channeling, il channeling o diciamo tutto quello che il medium utilizza tramite se stesso come canale per avere una trasmissione con il mondo dell'invisibile per certi versi ma sono tutte opere del demonio, signor mi, nel senso poiché è il demonio che si traveste da altra persona figuratevi se riusciamo poi noi a contattare i morti, i defunti per certi versi quindi a parlare con loro, loro certamente non vorranno, non vogliono essere disturbati perché sono diciamo in ben altre cose affaccendati, è il demonio che si diverte con queste voci e ci fa credere ciò che noi non immaginiamo per certi versi quindi c'è questo famoso occultismo, c'è il channeling, il new age, lo spiritismo del new age quello un attimino odierno e tutti questi personaggi come i medium che vanno un attimino in trance leggera trance un po' più profonda e dicono di parlare con i morti quindi chiaramente non credete a queste sciocchezze ecco